Sì, con Gigi Fresco per commentare questa partita. Prima cosa, complimenti alla stagione della Virtus Verona. Grazie, grazie. Seconda cosa, analisi della partita. Cambiata completamente ad inizio secondo tempo. Noi ci siamo chiesti perché era il cambio di Christofferson, che comunque stava creando problemi sia come riferimento anche per il gol. Eh, ma lui era tanto che non giocava, perciò avevo previsto una staffetta, diciamo, no? Avevo messo dentro il posto suo il nostro giocatore più in forma dell'ultimo mese, che era Fabro. Perché puntavo con la sua velocità e quella di Casarotto, di mettere... Già Casarotto aveva messo in difficoltà, ho detto, ne metto due, li mettiamo più in difficoltà, no? E ho messo Dante come suggeritore, mi sembrava che ci stasse... Il problema non è stato lì, è che Pescara è un fuoriclasse, secondo me il più forte giocatore del campionato, lì da Le Monache. Questo qua, tu puoi organizzarti come vuoi, lui ti salta un paio di giocatori e poi magari fa l'assist, fa il tiro, capito? Lui la volta scorsa ha fatto il primo gol, ha fatto il secondo, oggi ha fatto quello decisivo, quello del 2-1, no? Perché... e lì non ci sono facili soluzioni per un ragazzo così da marcare, insomma, ecco. Quindi maria delle monache? No, bella organizzazione, bel gioco, Pescara, bravo Zenec, bella squadra, pubblico che sostiene e tutto, no? Magari oggi ha fatto un po' più di noi, però se non c'è questo qua poi che ti inventa quelle cose, magari le partite, anche quelle che meriti puoi pareggiarle o perderle, no? Guarda, questo ragazzo, penso che il suo marito vada a Zenec che l'ha migliorato, perché mi hanno detto che un mese fa, due mesi fa, non era così. Un grande mister fa diventare grande, diciamo, è un mister che ha creato Insigne, ha creato Immobili, ha creato Baiano, signori, e vedrai che questo ragazzo... sì, ma parlavo di punte, no? Vedrai che questo ragazzo... no, ma non è la punta Veratti, io parlavo delle punte. E vedrai che questo ragazzo... La discussione con Diego dietro la telecamera. E vedrai che questo ragazzo non è a salià. Ecco, questa... diciamo che è già della Sampdoria che ora è retrocessa, però la Sampdoria ha dei problemi. Le chiedo una cosa sull'assetto tattico del primo tempo. Avete mandato, non dico K.O., ma eravate lì vicino per farlo il Pescara con i movimenti di Casarotto alle spalle di Raffià, Cancellotti e Brosco se lo sogneranno per un po'. Casarotto è un altro giocatore un po' simile dalle monache. Lo da Zeman l'anno prossimo. No, no, me lo tengo. È un giocatore simile dalle monache, che salta l'uomo, che ha tiro. È un giocatore che viene da eccellenza. E perciò, insomma, è un giocatore forte. Avete preparato così alle spalle di Raffià? Sì, sì, sì. Altro fenomeno questo qua, ha giocato. Peccato che non abbia una grandissima intensità, ma altrimenti è un fuoriclasse, Raffià, vero? Questo è un giocatore... Ecco, invece di dire questo, come tecnica è il più forte del campionato. Poi, se lui riesce ad aumentare un po' il ritmo, è marcabile anche lui, insomma. Una domanda da studio per il presidente allenatore Gigi Frescolaro e lo salutiamo. Fabio Ferrarisi, naturalmente. No, io nessuna domanda al mister. Gli faccio veramente i complimenti di cuore per quello che ha dimostrato e per il gioco che ha espresso e quindi tanto di cappello, chapeau, come direbbe il buon Cassano, e ci ha messo in grandissima difficoltà in questi 180 minuti. Nessuna domanda, ma solo i complimenti e chapeau per il cammino che ha fatto con la sua Virtus Verona. Grazie a Lupa, avete un tifoso in più adesso, dai. Grazie, grazie a Gigi Fresco. No, che possa coronare il suo sogno, ma se non dovesse farsi non è una sconfitta, perché un playoff a 28 squadre, come ha detto Zene, è disumano, vero? Allora, un consiglio flash sul Pordenone, visto che lei lo conosce? È una squadra molto fisica, con l'agilità e la velocità li mettete in difficoltà, secondo me.